Cosa hai pensato eh, l'importante è non guardarli, non li guardi e loro non te fermano, cioè, sì sì per forza. Oh, cioè non cagli da fermo fra, occhio, oh, occhio, oh, stavo sulla tv, fermo che io mi provo, arriva il video di domenica e fa, oh amico tu, faccio sì sì, fa, non mi dica che è ricaduto, no no, non ho letto il titolo, no? Ma che cazzo fai? Che cazzo fai? Coglione Eccolo, il team marzista, ringrazio a Dio che è bloccata, porco, oh ma, aprofona matematica Mia frà, scappa Ciccione, non ci passi, io ci sarei passato Quindi se io faccio Ah, e se faccio questo? Quindi vuol dire che c'è anche figa, ah no, è una squadra di elementari, ok, no, no, taglia, taglia, taglia E' duro? E' duro? E' duro? No, mi vede no, ma sì Eh, per fratte, marco di per fratte, 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 ok Aspetta un attimo Ero molto sicuro, anzi, guarda, lei dovrebbe guidare a destra quando la destra è libera Non si preoccupi, non sono matto Un altro coglione, vedi, qua non si può andare dritto, non sbattere per terra a gente che è moto Su, su, via Oh, carcola, stavo a mettere la live sulla televisione di casa Cos'è che era successo, caramba alla fine, caramba alla fine si stava un T-Max, slimita, lo scarico addosso di qua Oh, una pussy Se vorrei bene il gas si sente Ok, ragazzi, siamo tornati su una moto No, no, mi dissocio, mi dissocio, non è vero Sto facendo finta di avere un problema La scatoletta Porco di... Perché rito che stavo per morire Morire So partito a manetta, non pensando che si alzasse Sono andato, praticamente, sono tirato così No, no, non è vero